Salve ragazzi, rieccoci. Allora, questo non è un video per quanto riguarda la Juventus purtroppo, ma è un video davvero che ha lasciato scolpire tutto il mondo del calcio. Stiamo parlando di un calciatore molto famoso ed è anche molto forte, Leo Messi. Allora, ufficiale, Lionel Messi lascerà il Barcellona. Dopo 21 anni di amore con la maglia del Barça ha deciso di cambiare aria. Anzi, da quando ha giocato, da quando forse ha giocato, dopo 14 anni forse, dico la mia. Per me è un vero peccato che Messi lascia il Barcellona. Io pensavo che finisse la carriera là. Mi dispiace tanto per Lionel Messi, a dire la verità. A parte che io adoro di più Cristiano Ronaldo rispetto a Messi. Io mi auguro solo che Lionel Messi trovi un club molto adatto a lui. Dico queste forse due fonti più ricche. Manchester City o Paris Saint Germain. E voi pensate che dopo che Messi lascia il Barcellona l'Inter farà questo acquisto? Ma di che? Che a causa della pandemia dovrà avere un... che la società cinese dell'Inter non ha più soldi. Ecco perché ho scelto City e Paris Saint Germain dove trasferirà Lionel Messi. Io vi dico la mia. Per me Lionel Messi si trasferirà al Manchester City. Ho scelto. Vediamo se ci azzecco o no. Se non ci azzecco, pazienza. Tanto è solo un gioco. Ragazzi, spero di essere stato sufficientemente chiaro. Spero che il mio video vi è piaciuto. Lasciate subito un like al povero Messi. Commentate qua sotto. Iscrivetevi al mio canale se siete nuovi. tutti. Se siete appena iscritti cliccate subito la campanella per non perdervi altri miei prossimi video che usciranno. Seguitemi già su Facebook e anche su Instagram. Ci vediamo molto presto per i miei prossimi video. E sempre forza Juve. Ciao belli.